Screening di massa Canosa Sannita in provincia di Chieti. Grazie alla collaborazione tra Comune, la farmacia Segatore, il laboratorio analisi Salus di Tollo, qui chiunque può sottoporsi al tampone previa prenotazione al costo di 10 euro per i residenti di Canosa e di 15 per coloro che provengono da altri comuni. L'iniziativa si svolge ogni martedì e ogni sabato a partire dallo scorso 2 dicembre e mediamente vengono effettuati circa 40 test al giorno. Per il momento noi andremo avanti per tutto il mese di dicembre ma non escludiamo che a gennaio ora vedremo anche come si andrà avanti e se sarà necessario noi continueremo anche nel mese di gennaio 2021 a proporre questa importante iniziativa. Dico che ecco queste prime due sedute sono andate molto ma molto bene. Abbiamo già altre prenotazioni per le future sedute e quindi devo dire che la cittadinanza sta rispondendo abbastanza bene. Però è sempre meglio ricordare appunto ai nostri cittadini di venire a fare questo test perché è veramente importante per tutti quanti noi. Riuscire a tracciare il virus significa avere meno positività dentro il nostro territorio. Questo tampone nasofaringeo è un test rapido antigenico e altamente attendibile salvo il virus sia stato contratto in tempi troppo recenti per l'incubazione e il risultato del test è comunicato nel giro di pochi minuti. I test antigenici, i cosiddetti test rapidi, sono dei test qualitativi quindi ci indicano la presenza o meno delle proteine virali. È un test rapido proprio perché l'esito si ha nel giro di un quarto d'ora 20 minuti e soprattutto è importante dire che l'esito stesso viene da noi inserito nella piattaforma regionale e al fine di appunto concorrere al tracciamento dei pazienti sia positivi ma soprattutto di quelli asintomatici. I tempi di incubazione vanno da un'incirca una media di 7-10 giorni quindi bisogna anche tener conto di questo fattore quindi ci si deve anche regolare dal giorno in cui si presume di essere stati a contatto con una persona positiva quindi diciamo una media... Quindi se il virus fosse stato contratto ieri ad oggi non risulterà? No assolutamente no proprio per il discorso che facevo prima della carica virale. Grazie. Grazie.